Il comune di Rosarno in provincia di Reggio Calabria non andrà al voto nella prossima tornata elettorale amministrativa. Dopo l'affidamento al commissario Ripucci, il Consiglio dei Ministri delibera l'affidamento della gestione del comune ad una commissione straordinaria per 18 mesi. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri sotto la presidenza del presidente Mario Draghi e del sottosegretario alla presidenza, il dottor Roberto Garofali, ha deliberato su proposta del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese l'affidamento ad una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi della gestione del comune di Rosarno già sciolto a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre metà dei componenti del Consiglio Comunale. Si è disposto inoltre allo scioglimento del Consiglio Comunale di Simeri-Crichi in provincia di Catanzaro il conseguente affidamento della gestione del comune ad una commissione straordinaria per altri 18 mesi. L'affidamento infine ad una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi anche del comune di Nocera Terinese già sciolto a seguito della riduzione dell'organo assembleare.